però se porta il pallone e la palla in verticale riguarda la posizione Cepic a tenere in gioco tutti sale in mano la difesa polacca molto benetto la mette dietro per Müller e questo è il gol del vantaggio tedesco il sesto in queste qualificazioni si avvicina al compagno Lewandowski perfetto hanno iniziato con la giusta concentrazione in questa partita hanno sfruttato la seconda posizione della gola Lewandowski qui e nel giro provi salve grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti